Scusa Presidente Marsilio, ma ieri a Cellino Attanasio che cosa sei andato a fare? Non hai detto nulla del poliambulatorio, sono mesi, anni che il sindaco, noi facciamo battaglia affinché quel poliambulatorio venga aperto. L'assessore Verì lo sa benissimo, lo ha promesso e ripromesso più volte. Siamo a soli tre mesi dalle elezioni regionali, lei si reca con la sua giunta presso il comune di Cellino Attanasio e non dice nulla. Non rassicura i cittadini, il sindaco, la giunta, l'amministrazione comunale circa l'apertura di quel poliambulatorio più volte richiesto e pronto da tanto tempo.